io sto morendo di fame, decidi di fare il video, perchè non mi prepari la pappa? eh? annaggia! eh aspetta, quando le fanno hanno ragioni? ah bravo papino, ma assaggia, ma assaggia che stai accorto, quando mi sto a stanca? ho un bel massaggino, poi metto il fresco, bello, bravo, bravo, e via proprio oggi, un bel massaggino, e stasera dove mi ando a fare un po di cosiddetti al centro, un po di relax ci vuole E poi arrivo io, che ti rubo il cuore. Cosa puoi fare? Niente, perché tu permessi per sempre, e io il cuore non te lo restituisco più. E mo chi è che rompe adesso? Chi è? Api sono io. Io chi? Io la mamma. Non è vero, la mamma è di là. Dai, sono io, mi sono chiusa fuori e sono andata a buttare la spazzatura. Ninchia, questa è sempre più svampita, oh. Dai, apri. Parola d'ordine? Mannaggia a te, polpette. Ok, va bene. Ti odio. Ti odio quando mi passi le salviettine, che puzzano di merda. Ti odio quando mi porti a spasso giù con la pioggia e mentre che cago mi dici, sbrigati, sbrigati. Sì? Ma sbrigati te che, io mentre che cagli ti rompo le palle? Bene, oggi vi mostro cosa devo fare io per ricevere un pezzettino di carne dalla mia mamma. Ecco, guarda. Guarda adesso cosa mi fa fare. Bene, terra. Ok, bene, l'ho fatto. Bene, brava, l'ho fatto. Brava, Nina. Adesso, cosa vuole da me questa? Che vuoi? Non ho capito. Ah, ok. Beh, è anche caduto. Quindi, quindi terra. Bene. L'ho fatto, terra. Basta? Abbiamo finito? Possiamo andare via? Eh? O io ancora? Sì. Sì. Sì.